Il progetto denominato Porta del Mare, volto alla trasformazione dell'area dell'ex ferriere di proprietà del gruppo Colussi, fu approvato nel 2009 dopo un iter durato due anni. In quell'occasione il progettista, l'architetto Jean-Marc Schivo, già autore Imperia della Piscina e del Palazzetto dello Sport, presentò l'opera al Consiglio Comunale e ai nostri microfoni. È uno spazio, è un complesso multifunzionale che è fruibile, lo si può vedere e lo si vederà senza altro questa sera, e mi auguro una volta costruito, completamente fruibile da tutta la cittadinanza, fruibile non soltanto negli spazi interni ma anche sui tetti. È un complesso che è stato impostato dal punto di vista energetico con tutti i criteri innovativi da sviluppare in termini di bioclimatico, ed è innovativo, secondo me, nella scelta da parte del gruppo Colussi di posizionare al suo interno il centro della dieta mediterranea. Il progetto originale della Porta del Mare prevedeva un centro commerciale, la Galleria della Dieta Mediterranea, il centro direzionale Agnesi, due sale cinematografiche, un albergo, residenze, uffici e un parcheggio da 800 posti, la metà dei quali pubblici. Previsti anche spazi pubblici in superficie, grandi piazze, giardini, giochi d'acqua e impianti volti a risparmio energetico e al rispetto dell'ambiente. Numeri a dir poco imponenti, oltre 18 mila metri quadrati di superficie e edifici per 94 mila metri cubi. Alla presentazione della Porta del Mare al Consiglio Comunale nel 2009 intervenne anche un docente dell'Università di Genova che presentò uno studio economico relativo al progetto evidenziando come a fronte di un investimento totale di oltre 65 milioni di euro si sarebbero prodotti circa 200 posti di lavoro fra diretto e indotto e un reddito di circa 130 milioni di euro. Cifre stratosferiche già allora e che oggi, alla luce dell'attuale crisi del settore immobiliare e commerciale, appaiono ancor più fantascientifiche. La variante, presentata da Colussi e recentemente bocciata dal Consiglio Comunale dello scorso 7 giugno, risale al dicembre del 2012 e rispetto al progetto originario prevede la trasformazione di parte degli uffici in edilizia residenziale. In cambio, il privato, in ossequio alle normative subentrate nel frattempo, si impegna a realizzare in un'altra area 14 alloggi di edilizia residenziale pubblica che resterebbero di proprietà del Comune. Se le autorizzazioni non verranno ritirate dagli uffici comunali e i lavori non saranno avviati entro il 2018, scadranno i termini di validità legati all'approvazione del primo progetto, quello ad ora valido, e l'Iter dovrà ricominciare da capo. Con le difficoltà finanziarie che sta attraversando l'intero gruppo Colussi, appare però perlomeno difficile che possa imbarcarsi in un'impresa che prevede investimenti milionari e appare altrettanto difficile che Colussi possa trovare qualcuno cui vendere il progetto in un momento in cui a Imperia non riescono nemmeno a stare aperti i negozi che ci sono da anni e il mercato immobiliare è a dir poco paralizzato.